non c'è il microfono ora c'è ora c'è ora c'è ora c'è praticamente è il gatto non è non è la stessa cosa 1 attenzione attenzione il gatto manda la modifica chi ha poi adesso facciamo una bella prova audio perché ho sbagliato offerto un video a casa su youtube carl star ceretta splattonatic ma io chiedo hola questo è l'audio e l'audio del me encanta me encanta il gatto tiene un audio che può il programma del gatto soy uncle che tal todos gli stasi infermo che passa frank doc stava morendo perché sulla cittadina sul disco o mio dio o mio dio ciao ciao a tutti ciao proprio hola super pro sanchez hola sono il suo super pro che tale stas most prince hi welcome ok sono io ragazzi che sta giocando stai jugando io chicos come sempre a iniziare alla prossima partita scu 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 on air on air on air on air però mi ha salvato in questa maniera doc mi ha lasciato di leggende che leggende e fanta sono femmine no non ci credo non ci credo si è fidanzato con lei che? l'ho lasciato ragazzi guardate che comunque si è sul server nostro di discord sarà anche qui in live mi sa perciò se state smascherando il vostro scherzo come state? come vuoi che stiamo? siamo appena tornati siamo appena tornati giornata lunghissima e brutta perciò adesso speriamo che con un paio di stream il mio umore si tiri di nuovo su grazie per l'interessamento Matteo no sii eccomi arrivo in chat vocale io non sono in chat vocale raga e perché dovrebbe esserlo? non è appena togliete oh 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 no 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 ah quindi stavate trollando Franci cioè Franci che rimane con me tutta la notte in Minecraft a guardare il mio diretto voi lo trollate grazie eh grazie eh ragazzi grazie eh se su è un scenario ragazzi dai non fai dovete essere un po' più rispettosi però eh cioè poi alla fine scherzo eh dopo uno scherzo si chiede scusa per lo scherzo di regola e non si contiene a trollare una persona grazie a tutti allora guarda questo di oggi è Splatoon noi in Minecraft stavamo da hace poco tempo però eh primariamente sempre giochiamo in Splatoon quindi la nostra comunità è nascita con Splatoon ed è questo il gioco che tu vedi e l'obiettivo del gioco è intentar decolorare la più parte del suolo possibile di tuo colore Jardin hello wow buona partita what a game buah hola a tutti anche da parte mia ciao a tutti anche da parte mia ragazzi stavo concentratissima a giocare fai duolo seguente dov'è Soluna? patatine dov'è Soluna? patatine dov'è Soluna? ah dog dog you should do Splatoon 2 tomorrow because that's when the 3.2 update comes out hello by the way hi Sol wow wow when you enter when you will be able to enter the to see the house you will be I don't know how to say it even it's really you have a great house potato dove sta potato? dove sta potato? è verda hola hola Victorin hola guapo chi è? Victorin hola Victorin madre mia è un montone di gente Axel va a provarmi hola che guai veros aqui hoi chicos con Splatoon nostro nostro fondamental non so come chiamarlo no comunque Franci Franci siamo un po' scherzosi noi adesso poi tanto capirai se rimani con noi capirai il gruppo com'è se ti hanno trollato un pochettino hanno trollato tutti anche me io trollo loro capita eh non ti preoccupare scusa per se ti hanno offeso anzi le scuse te le devono loro se ti hanno offeso non io io che centro è vero poverino ostra no mamma mia en fin patapilla si 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 el juego el juego se ha un tiene muchas modalidades en la que estamos nosotros ahora son dos equipos cuatro contra cuatro con diferentes armas cada uno de un color y a esplatarse e ora va a entender il porquè se llama Egodist City perché ora che veras in partita privata quanto Egodist somos ti darà cuenta mira Juno grande Carlo ben ho sol è dicendo per favore doc ho visto il video questa mattina e la casa è fantastica però hai un video di la casa retocata il video di ayer per la notte è la live ma io ho lavorato ancora ma sol sol è vero è vero ma oggi ancora ha lavorato quindi è ancora diverso ma siamo gladi che ti piace mi piace è mi piace è molto mi piace mi piace mi piace se non vuole mi piace lo non non tu hai detto queste cose Sark hola Sark Gana il che pinta più, sì, exacto, gana il che pinta più Ostra Perdona, perdona Decías Cosa si chiama il gioco? Ayer me costai a las 10 Este gioco si chiama Splatoon 2 Este è il icono De lo che è Los paratutto della nintendo È molto divertito, è molto guapo Oh, should I put up a sail band design? No, no, no No, no, no Dì che la sua base è stata fondamentale No, no He said, and with your house especially We noticed this so, so much That the base is something Your base especially was something fundamental to the house And while doing this My thoughts about this Is that it's such a cool thing Because He's not limited to its own style He sticks to your style And puts its own And it's a great result I think Dove vogliamo aspettarvi Grande Sasi Ciao a tutti Hello Calamaco Calamaco Ciao Non lo salutato Personalmente è un botto di gente Ciocci Neanche Saretta Tutti gli italiani Saretta Fanta Frank Hello Welcome Welcome here Matteo Chiice Pio Dire ai ragazzi in inglese Che la chat di Spertuna è molto attiva E si parlano tante lingue In inglese? Si Yeah guys Sorry if If some messages get lost The chat is quite active And we're talking so much languages So If it's something really important Please just write it again Chico Si 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 Se perde Un mensaje Muy Muy Importante Que Que Quieres Decir Que No Prestemos Atención Os Pedimos Disculpas Estamos Aquí Con Muchos idiomas Juntos El Código El Código Está En Le Patatine Bum 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 Cinco 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 Este Es El Segundo Juego Del Primero De La Bu De 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 Doc, parlo in marocchino. No, non è marocchino quello. Ho trovato che il blog preferito Doc è il Stonebricks. Sì, ma è perché vuole dare all'interno della città di Higodi un style medievale. Per sembrare vecchio. Puoi vedere qui, adesso, quanti Higodi siamo. Posso dire? Eh? A Gesù. A Gesù? Mi sa che era il nome spagnolo prima che dicevi. Minchia, senza abilità. Facciamo senza abilità? No, perché no? Prova una. Andiamo solo sullo skill. Calim, grande. Ma cosa è successo? Che mi ha mettito una mistosa. No! Calim. Adesso di che facciamo vedere. Ora vi avremo a vedere una seconda modalità di questo juego, che si tratta di cocare un pezzo e portarlo fino alla base inimica, senza morire. Sì. Questo è molto, molto, molto emozionante. Cuenta meno il pintare e più il centrarti nell'obiettivo. 24 persone online? No, non li innamo. Johnny B, hello, welcome. Ah no, è che stanno entrando tutti. Stanno entrando tutti. Perfecto. Mannaccia voi, manaccia. Noi siamo arrivati dal gioco per giocare con voi, che ci sono rimane 3 in una partita mistosa. Pobrecicosi. Pobrecicosi. Tu crei che un giorno ci vediamo tutti i gli oghi? Wow, ti immaginati? Da qui ho fatto molto tempo per fare una riunione mondiale di gli oghi? Da gli gli oghi. Ti immaginati? Che scopo. Guarda, io ti dico che ora ne parte. È tutto bloccato qui. Solo questo ti dico. Ah, 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 ah. Eh, che altro? Ah, mi ho perduto. Espere, come una te affianza, va adesso fliegare. Ma come, ma stai, mina? Non si andano corti con i like. Ese è Axel. Questa è un eccolo. Come fare le decorazioni. E' bello. Ci sono sempre abiti per nuove informazioni. Allora, ragazzi... Non metto il codice. Io senza il codice. Ci cosi, voici in codice. Ragazzi senza codice. Senza codice, senza codice ragazzi! Non, 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 non... Ma a che ora comunichi live di Minecraft? Ah? a che ora comunichi live? non lo so dai ancora una lettera facciamo un splat però al final non lo accettaste ayer chiaro ho giocato ma Jaydeen abbiamo già diventato amici ci siamo già diventati amici perché ti senti ancora? ok lo traduco un mensaggio di un italiano esguere dice che sei un grande che non ho dovuto traduzire nulla ragazzi non va? ok Igodi vs Igodi Igodi ma io solo di no me pude nir tutti igodi insieme sicuro che tutti usavamo la switch chiaro hombre oh Dio mio super veloce ho avuto un po' di ho avuto un po' di ho avuto una domanda con la mia altra account ho avuto un po' di bene bene provi vittor 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 no no guapoarmi ha funzionato ho avuto un po' di ha funzionato vittor avuto un po' di vittor vittor avuto un po' di vittor avuto un po' di vittor 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 avuto un po' di vittor 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 Vittorin, credo che a tutti le passa un po' non leo il 30% dei messaggi, credo in voce alta però a mia cabeça, a tutti oh ma franca lo dice anche a Matteo dai dai vamo a vedere se è vero lo che hanno iniziato por aqui las botes bueno, se entiende esta modalità per a los recien llegados che non conosce in questo gioco credo che sì, no? vale non se si Carlo ha oído la traduzione ah vuole dire a Fanta che grazie igual a él a Fanta Carl comunque prima ti ha risposto che grazie che anche te la sereste povero Machino oh mio Dio dai dove sta, dove sta? quello che è gioco non sono io perché io sono... sì 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 Matteo siamo proprio coscienti dall'altro giorno l'avemmo capito ah ah ma quindi adesso qua c'è sì sì ma questa persona chi è? ancora non ho ben capito Igo di Matte ma in chat chi è? chi è Igo di Matte ragazzi? di qua? che si pronuncia? loli 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 lola però che dici? cada dia io ti chiedo ma loli loli però che textura del Minecraft è questa? ah loli eh cosa? loli loli è... ah però non sta ah sì 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 loli mira 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 ayer abbiamo conosciuto una persona che in seguida abbiamo dovuto pensare in ti sì perché sei compadre se si può dire così e ademasi è che mi ricordava molto a ti è molto simpatico sta por qui a ver se scrive e ti dà conto a tu mismo non lo so chiamo 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 no quattro realistica che è un grande gli piace la fanta sì ragazzi sappiamo che non avete scuola infatti per questo abbiamo detto dai dai dobbiamo fare live maco sì o sì ma Sara non era maco se non è siciliano è l'altra adoro il momento della life quando dog fanno loli lola loli lola io ti chiedo devi parlare con loli per farlo venire di più qua perché sennò come quando dog sta calcolando stò calcolando sto calcolando sto calcolando sto calcolando sto calcolando sto calcolando 4 4 4 4 meglio delle reaction se io mi chiamo Matteo perché dai dai abbiamo capito no no non sono neanche in partita ma chi? ma io non lo voglio che giochi lui non mi interessa il macchino non voglio il macchino no loli solo per la simpatia mira acaba di scrivere antes se chiama oh non me lo credo guapoarmi vedete guapoarmi qui? si 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 tambien mi ha imparato si patamagotchi aspetta la torna con un attacco di risa grande buon ragazzi Axel boom e qui cantiamo ma cosa ti succede? cantiamo è un ritmo tropical vittor 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 e sassi vittor 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 ma metti anche di ci fai condire la pasta ai tamagotchi no tamagotchi non conosci tamagotchi dili per favore agli amici che ragazzi accederò la proposta in un match perchè non posso accederlo in un match un match per favore il che ha quedato ultimo sei io hola che 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 le vas a hacer? nada a reventar continua reventando che rippo della pasta do quando ti faccio la reaction reaction re action sa si tu? come fai? reaction ti ricordi quando urlavano tutti quando urlavano reaction non è vero Saretta solo per te Calamaco l'unica donna che piace a Calamaco è Keke secondo me si Keke è innamorato di no Calamaco è innamorato di Keke da sempre hola maco ehehe mira che carita che le pone si 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 ma mi piace divertito apprendere con gli altri e io non giocare a che ti riferis Vittorina? mamma mia e perdona cosa? mamma mia ragazzi non vi preoccupate se sei minore ma che è? no secondo me però si cosa è successo? no so che non è ma non so cosa è successo però tranquilli vi dico no hai qualcuno che ho fatto che mi ha fatto che mi ha chiamato lei perché? oh l'aglio e versi i buchi il sacco e che perché? che passa? la ricetta ahahah ahahah ti smetterebbe ma ehm spagueti oh questo è napoletano aspettate devi l'agirlo tu credo che è una cosa di comida maldito youtube che è successo? che è successo? che è successo? non lo so? ma l'aglio è successo ah sta di spectatore ma è successo ma è successo a mi piace davvero bufo 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 ah che è mia femma partner è un bufo 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 appartamento il bufo alarlo bufo ok si che è Pier ah capisco che ... ah è Pier proprio che è sì 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 io lo accerco in uno spazio un parco un seconda se potete aspettare lo accerco non ti preoccupare perché il lobby si c'è il ruolo in un spazio no 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 No, no, Caleb bufone Enorme Che, Caleb, stai giugando? Stai visto? Hai cadentato il controller? Marco sta preparato, sta listo Vero, Marco, sei pronto? No, mentira, Caleb Stai il 30 di abril Seguro, seguro Grande, Carlo, bravissimo, Carlo In serio? Grande Matteo sta posto il segnale dell'armo Che grande Se continui a parlare, tocchi vicini Ti dicono, zitto bufu Sì, ti ho letto Sì, ti ho letto Che fai tu la reazione Ma Carlo, Carlo, no, no, no Mi stai scomocendo Mi viene, me voy a escuchar il musicito Siendo avistosas Dove era? Dove era, Alessandro? E attenzione, questo è il quarto, il quarto No, 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 no All team, all team All team Bueno, Vittorin, hai conseguido Jogar, no? No, estás contento? Good game guys Good game guys Grande, grande No, Caleb, stiamo di broma Ya lo sabes tu Fanta dice che le Di la vicina che le paga Al intervento a Leolenchia Che devi continuare con le reaction Ai, adios guapo Armi Muchas gracias por haberte pasado A ver si te acaba gustando este juego Sì, nos vemos más tarde Cosa devi aver capito Che è bufu qua E deve essere pronto Per spacarle tutto Aspeto che non mi abbia capito Entro mañana a jugar con él Perché questa notte Danerfea il rodillo La mejor te dice della storia No se si creerte Bueno, te creeré Así que mañana te esperamos Ti sei salvato, mamma ¿Cómo si chiama questa? Patatina? Patatina, eh? Hola, Bib Welcome Welcome Hello, hello Natim, hi, welcome So, Marco Domani Ti sta dicendo Quando fai gli sparoni grossi Così This is why I never superjump Yeah, it's true The law of the superjump Jadin, Jadin dos Ok, Jadin Now it worked No idea why it doesn't work No, other way Senta, fai del patatina Chi è patatine? Crazy Zach, hi Hi, welcome Yes, of course Join Me siento como Yo, yo que sé Cosas mías Bueno, yo Victorin Sé de lo que se trata Es de lo que hablamos El otro día Así que No te preocupes Te entendemos Welcome, welcome To the Minecraft Vale Muy bien E quindi partiamo, eh, ragazzi Partiamo, eh Siamo pronti E patatine Ok Marco, certo Certo che devi Per supuesto Exacto Patatita Voy a acostumbrar A fijarme Donde están Cada uno De mis compañeros Para ver si tengo Que te Si, mira Car, yo también Empecé con esa regla Al principio Iba ciegamente Y luego Si veo que es un punto Estratégicamente Bueno Dai, vejo, amore Tendete a trasportarme A los que están Más cerca De nuestra base Porque los de adelante Casi siempre Muero segura Rico, bello Invita Di account Miei belli Patatine Me lo suponía Suponía Exacto Frank Bravo Brave parole Ancora uno E Frank c'è Ah, bueno Si no te acuerdas No fue tan drammatico Para tu corazón No Scherzo Bromeo No, adesso Non te abbiamo letto Sasi Cosa hai detto Cosa hai detto Si Ti ho letto Buonanotte Bello Ma sto No, non sono tanto Qui se ne va Ah, ciao Matteo Buonanotte No, pro se ne va No, Matteo Ah Eh, ciao Pro Pier Patatine Bravissima Si, sarete Vero Io ogni tanto Se lì Lo urlo Contro Così Si 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 Abitua Toc Toc I had an idea To build an Igodi Theme park Wow Sol Igodi Patatino That should happen For sure Maybe it's a really big project You know Because I think there's a lot of Mechanics involved But for sure For sure 100% Ricorda A little bit The new Descriversi To the new people Who arrived to the community To stay in touch With all of the players You can You should Subscribe to the channel To turn on the notifications And also To the Discord channel So that you can also Play with The people here Without us being online One can play with you Please Wow Come lo entiendo Buenas noches El troll Che 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 Lo que decía Mi puse Que todos Somos bufos Pero Yo soy un bufino Y ahora todo el colegio Lo dice Lo de bufo Eres un grande Sark Mica Oh ragazzi Stiamo divulgando Il bufo In Spagna Si si Mi sa que Diventa la moda Si ma Devo dire Grazie a noi Sto giro Eh Devo dire Grazie a noi A sto giro Si Tienes que ponerle Copyright Stark A eso Y fin Que yo Non mi Desinterro Que exagerato Mateo Hola a todos A todos los que entran A todos los nuevos A todos los que entran He dicho eso No Es que a mi me sabe Muy mal Cuando no saludo A alguien Entonces si Cuando luego veo Que una persona Ya ha escrito Como veinte veces Yo Hola Ma cosa Ma cosa ha escrito Si Ma ti ho letto Ti ho risposto Prima Certo Che ti ho risposto Ti ho detto Che mi sa Che non è possibile No Senza mi sa Senza mi sa Dimmi solo adesso Si Si mi hai letto Si mi hai sentito Tambien Loli L'ospital Nos lo han proposto Ya otra vez Oh Buena La enfermería No No Fai el cattivo Che dici Jessica No No Se esce alle 3 Yo estoy ancora Jocando a Minecraft A quell'ora Sicuro Frank Si Si Dai Dai Facciamo la live Anche di Splatoon Dopo Alle 3 Eseres una Frank Si 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 Frank Che sta sveglio Arriverà anche T-Bone Mi sa Eh si T-Bone sempre c'è L'abbiamo capito Sasi L'abbiamo capito Oddio Gli ho dato un colpo al tavolo Andre mio Mi ha assustato Ah si Muccio che Non ti dico C'è un'azione Si chiama Dormire Oh Ok Pokemon Pokemon O Sgusta Pokemon Eh Mira Si Julitendo Dove E' entrato Julitendo Con il nome nuovo Ah si Julitendo 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 Dai oh Invochiamo Julitendo Hai visto Mago Ci ha scritto sotto un video Julitendo 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 Ora viene Dobbiamo Vedere Per primi Nuovi Ah Raga ma Io e Doc Andiamo a dormire Le quattro di notte In realtà Doc Ma no Non sempre È solo L'inizio Si Di Minecraft Dai dai Ma torno lì dietro Ma torno lì dietro Anche voi Un piccolo Mufino Molto utile A rompere Nel secondo Di senso Ma non è quella Merdina Lì sopra Grazie Ho detto bene Sasi Dove arrivano Dove arrivano Dove arrivano Dove arrivano Il problema è Che prendo Cia batata Se non Andrò A dormire Presto Questo Leggete ha detto Io Mischio Due lingue E così Due Capiranno Due lingue Capiranno Perfetto No No Maledetto Il muro Ah From whom So what is it Oh cazzo 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 No 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 Torni dietro Torni dietro Three Two One Puff Ok libero No 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 Libero Ma perché cade Ragazzi Ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Boom Shadeen Boom A perfect strike Super bro Sanchez No 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 Baca 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 Perché non fai diventare doc Una legend Perché ma cosa sta succedendo Io non ho capito niente Ose avevi regalato Algo mutuamente Per San Giordi Mira Io sono italiano E io E' alemana E entonces San Giordi A un par di anni Passato A un Ni lo conosciamo Eh Ni lo conosciamo Entonces No Ma Codio Aspettato E devo dire Non lo lego Neanche voce alta Pensé che Los igodis Expandirían Primero Che los bufus Però los bufus Son parte De los igodis Así que Ahora Puedo morire E' parte De Loli A team With two snipers Versus A team With Mako Ok Eh Non lo sé Chi è stato L'ultimo Raga Ratti Ciao Ciao Bello Ciao Bello Buonasera Però che faciamos Al principio De la partida Che tutti stavamo In la base inimiga E la torre Le dejavamo Che ha sido L'ultimo Ah Alguien Se acuerda Che è stato L'ultimo Che ha sido L'ultimo Was the last Has anyone Noticed Ora Tino Come stai Allora Va bene Uno Due Tre Joy No Joy Sorry Joy Sorry 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 You have Spectated The last match Oh Oh Si Lo mismo Che ha dicho Hola Lo mismo Vittorin Che ha dicho Carlo Buonasera a tutti Va bene Franky Ya Lo sufriré O No Si Lo sufriré No No Al fin Partida Mamma mia hola kuma benvenido cucu cucu cuma cuma vamos victor vamos maco pensé che maco era 3 equipos de japos con sniper juntos ultimo oh maco victor sara maco victor sara non è possibile maco victor sara un minuto ci avete messo si è veramente stai cerrando mucho last match for soul ok 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 Un coquino salvaje Ok, ok Sì, solo che a los 100 anni murieron tutti Sì, però chi va con il coquino era il buffino No Jess No entiendo perché ponen shampoo Per pelo seco Si antes di ponere il shampoo E tenere il pelo mojato Ese sì che è un chiste De la società moderna Ah, bueno Vamos a chiamarlo así Andiamo a vedere Andiamo a vedere un pochino Nessuno Nadia, a Carl Vamos a vedere a Carl Ma perché? No, no Pom 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 No De che decía? Un momento che intento leer Madre mia Vamos al siguiente No te mi da lungo Qui c'è il macchino Verso il centro Non riesce ad entrare Stasi Ma ti sei fatto qualche partita già o no ancora? Ma Oh Frank Se hai crashato Maldita Ma 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 Che ci sono andato Di due di questa squadra Noniders ocurre Ma 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 l'equipo rosa giocano due solo carli ma con un'equipo super handicap match ma si come se non lo vedevo mi pare che un 3 conto 3 no 4 conto 3 handicap match no no fumo uno matteo ma io e mago ci vogliamo bene si ma tutto qua il prossimo splat fest sarà e passiamo sarà concentrato sulla moltiplicazione contro divisione questo sarà il nuovo sport fest sarà di splat un no lo sabia loli no lo sabia loli no lo sabia loli è il conto di Pulsi sticca Io che le ho sentito tutte, ho avanzato un montone Che ci vuole come? Jaideen, che da so parte Vediamo i ultimi minuti da sopra Secondi minuti, si ore Yep Bye bye Sol, thanks for playing Bye Sol, see you later Yes, we want to show you the house Restart the room, nueva room, new room New room guys New chance 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah It's getting It's getting It's a coma Ma un cocchino semina Un po' No, perché? Adri Estamos in sintonia Si, 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 proprio così Pero... Boom Che passa Che te passa, Carl? Hey! Pronto, abbi pietà di me Vieni di schiacciare veloce Dice... Mi ha sentito Dice di schiacciare veloce Ma in futuro lo sarò No, Esger Rimani così Ah, vale Era solo per annunciarte, no, Carl? Joey per ora solo ha fatto l'aspettatrice Eh, potrebbe anche dirci ciao qualche volta Magari così Dopo tre mesi giocando in privata Senza aver detto ciao Riesce a salutarci Anche se sarà in giapponese O qualsiasi idioma che non capiamo Solo tipo per dire ciao Non sono un PC Sei un robot? Si No, non sono un robot Giuramelo Ah, chiaro E' un'altra crasciata O'Frenke, però Yeah Jess, tiens pensato Algo para pintar O te pones quando ti apetece? Me suelo poner Mientras El juega A Minecraft Asi que Estoy con un dibujo Que lo sto acabando Ahora Que ha sido simplemente Porque yo los dibujos Que hago ahora Son para probar Los pinceles En verdad Porque no se Con cual Sabes? Con cual Se me da mejor Hacer que cosas Pero si Pero las ideas Yo siempre las agradezco Si alguien tiene una Una visión Boom Grande sasi Dame una idea Para la extinción Non giocare mai più Ma stai giocando tu Non capiscono che A volte Cioè Quando non devi star dietro La chat Giochi Guarda se retelo Prova Joy Are you here? E poi adesso Che possiamo giocare a Minecraft Minecraft in 2 Si Giocherà anche un po' di più A Minecraft Alla meglio Non c'è bisogno Di 2 Minecraft A quanto pare No Ah No perché tanto Non è che vuoi fare I miei mondi Ma basta che entri E lo fai col mio È uguale Non è che cambia il personaggio Gesma non giocherai mai più Ragazzi È una domanda Che me la chiedo anch'io Ho molta voglia di giocare Stratour Veramente Però so Che se adesso Mi metto a giocare Qua Colassa tutto Chiaro C'è tanta gente Ragazzi Iniziano ad esserci 30 persone C'erano prima A volte voglia La mattina Tipo Dei mettermi E basta Giocare Non essendo in live Che sarà Per quello che farò Stamattina abbiamo giocato Stamattina abbiamo giocato Non è che non abbiamo giocato Alla fine gioco Quando lui mi passa il controller Io in ogni In ogni live Gioco sicuro Infatti le prime 3-4 Le faccio io E poi quando vado più avanti Che devo iniziare a cucinare Non è che È sicuro che facciamo di tutto Sempre Cioè io qua Mentre lei gioca Io devo cucinare Per dire Ma che ora è live Porn soul legends Calcola che Sarà Ma live No Live No Si live Eh ma sarà tardi Perché Adesso già sono undici Quasi Marco non mi scappi Marco ricordatelo Tu sei il top Finché io Non voglio far vedere La mia forza Vittor e Carl ai loli ss hero della del plot si sa totalmente ora ti peccato e niente come non avete la scuola questi giorni giocaremo di più tutti insieme no frank l'ho detto io non dirò mai quanto sono forte a splatoon perché per me questo è un gioco che deve rilassarmi non deve tendermi come call of duty però se mi tendo come call of duty la visione è differente è un gioco più che se cresci ti picchio no scherzo ho giocato malissimo gioco tranquillo maco capita a tutti anche tu te lo puoi permettere non sei impressione li stavo sempre addosso questo è il prezzo è per essere pro ti vanno a cercare perché ognuno si vuole testare se stesso anche dai maco pensa così dopo lo shock che ti ho dato adesso stai giocando con me dai potresti vincerla questa è una guerra con tutti gli splattatori spera che stai giocando come su nome indica splattava ma anche però da con tutti i chiederemo molto a vedere se vi sono a juntare come codirectores eh condividi questa progettata slattato un tavolo ci si pagano zareta amenazza frank es grossa necessito calmarmi un poco vale victorin Ok, io anche, credo Ok, ok Alla prima di respirare profondo Hai dovuto passare per una live di Minecraft di queste tardi perché queste sono molto relazanti La gente ayer nos agradecia Ah, che buono Che buono si sta in questa live Te pone quasi di buon humor Noi diciano Bum, mi morirai con me, Sareta I have a dog, I have a Pucci I have a Loli, I have a Pucci Madre mia, come si las va a todos la cabeza Pucci, lol, Frank Doc sta a bailar, è che voi non lo veis Sta a bailando I have a mine, I have a craft Ah, I have Minecraft Las mandarinas Che buonas le mandarinas Donde mandarinas? Che cattivo Oh, oh, oh Via, 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 via Via, via, via No, Sareta Sei la mia pallina preferita Bellissima Doc, la stanza La stanza? Dice, seghele No, 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 no Ma non hai appena iniziato? Non piangere Eh, per la cinema Ese temporada No, no, no Non capisco cosa dice quella Non so chi Raga, Dita Legend Già che sta dicendo Dita Legend Sì Eh, scusa, Legend in italiano Non lo può dire lui Questa è la mia domanda Ma chi dice quello? Non lo so No, no, no Ma sta, no, no È sempre una frase Ma è un'altra Oh Eh, Legend Adele Eh, come dire Es che in italiano Non conosco le parole Non è anche in spagnolo Dovrei dirlo in tedesco Adesso proprio Ma no Assuntos personali Sentimentali Che necesita expresar Però dice Che non le hagamos caso Entonces è come Un dono sentiero, sabes? Pues io mi quedo con il donut Credo che sia la frase più random No, ma stiamo parlando di frutta, tio Mandarini Chirimoya E questo sale con il donut Mamma mia Le perle, le Williams Il tomate Carl Il tomate Carl No, o sea Le sto rispondendo Il tomate Carl Il primo tomate produttito Entendamente in Spagna Non modificato Pino La uva Un mago triste Cosa è successo? Ma si è fatto benissimo Non tanto bene come Frank Però Rifai la stanza Scherzo Rifaccio la stanza New room Dopo il Sasi Faremo Minecraft sicuro And new room New room With the code 268 4 Ok ragazzi Veloce Quanta Veloce Veloce Che Che Oh Non lo so Veloce Randomly Comey Ciao Dovano Così no? Un Sergi Proveczi Che peccato Mind lo siento no me puedo quedar pero al menos me he pasado y pasas gracias a adri lo apreciamos mucho ya no salvaremos escuchamos leemos todos mañana jugamos volvego quien sabe torre mobile ah no mischia molusca oddio perché è annoiante un po ma di nuovo ma mi metto il spettatore tu e sarà te sarà per i primi due o i primi due o gli ultimi due perché sarà giocato un botto te ne vai con me sarah andiamo a fare un giro a vedere i ragazzi anche se joey sembra una ragazza si è sacrificato un errore ma quanto secondo me mi spiace dirtelo ma secondo me il tuo internet si sai e adesso frank non l'ho visto io cosa è un fake dice ma io di play con te non è a livello 8 stelina 8 e adesso non l'abbiamo visto manco io no no tra l'altro però la fresa tiene pepitos no lo sabia e quindi Sì sarete ridi di quello che aveva detto E certo E cosa facciamo se no Oddio Iniziamo di qua Iniziamo con il nostro amico Frank Cioè che giochi Lascia i elementi per Marco Dead Olè Che stai usando Vaya È mago La specie di Blast Qual è l'Elite? Hai detto Il Splasher Elite E nell'altro equipo Vitto Vitto con il Jet Splata Joy Il Red Bull Così scrivo Il Vamos a cambiar A Sark 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 Uiuiui Incuentro con Joy Ah A los dos Adios 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 Sì sì ma è lui Mi sa Perché è tutto uguale E Ma Sta aspettando È molto paziente Diciamolo così Diciamo che è molto paziente Mi si avvicina un botto Per splatare con un blasto Wow Tutti E che mi manca? Il Joy There's Joy Our unknown friend No Legends mi sa che la voglia di mangiare lo hacker le è passata Mai più Mai più Ma neanche le voglio chiedere se le prendiamo di nuovo Anche se non hanno fatto niente Ricordo Ecco Ci manca Uno che appena Tutti splatati ragazzi Kuma Kuma Los ultimi 8 segundos Sono per a ti Ah con il sniper Partito movidito Sì 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 Kuma Joy Kuma Joy Hai capito? Sì 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 Ah sì Ah che raro non si ti pia quando stava Ah buono Certo Quando ti pia Tampoco ti pia molto In questo momento Choco io Io sigo Questo funziona Questo funziona Hai visto? Si a volte è solo Llegar al momento Corretto Manca solo ti buono Ti buono Ti buono Non ci buono Non ci buono Non ci buono Non ci buono Pum Pum Estai facendo un cuento Lo stai apuntando Chicos Seria una lastima Si no Yo te veo mas con duales Carl No se por qué Carl Ma 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 Doctores Doctores E partiamo E partiamo No 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 Grande Sara Come sempre No 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 Wow 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 Bella 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 Hai bisciato la catinella Io uso l'arma di dog Il marker E' facilissimo il marker Marco approfittatene dei curling Si Si E' molto E' molto C'è perché con il marker Non ti mancherà mai la tinta Ia ia oh 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 Eh Ia oh Ia oh Pana bà bà Carlo e Frank Stellina 21 Black Stellina 21 Adesso ho capito Frank Mamma mia Come fa? ma quante ore saranno? dobbiamo andare a controllare 0852 no il codice 0852 0852 bonci 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 ma tu cerchi giochi tranquilli fagili da giocare capolavori nintendo animal crossing animal crossing questa notte facciamo la pixel art della foglia di animal crossing grande grazie che ho detto? fanta perfetto kuma molto bene come vai con il meme di però boom 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 un po' 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 non se creano non lo se Victorine de que stavamo' hablando en ese momento oh mio 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 117 personale di Hype da Octo Expansion e cercatevi la fidanzata si ma che lo scrive fra cinque minuti che ha fatto un medico tranquillo mago le ultime due di saletta noi non neanche facciamo 20 già mi so no? io ho una fame che sto svenendo mi andrebbe per mangiare anche un pezzo di plastica adesso dammi un pezzo di plastica Frank dai schiaccia o ti venga a cercare ti buco la ruota dei motorini stare insieme è finito abbiamo capito ma dirselo è dura come mai cos'è? fallo! fallo! allora vediamo questo bazzucato vamo sapereste perdonato come va? no! con un cane di quelli? cane è? brocciato sono tutte e due brocciato brocane una bestemmia brocane oh grande Carla grande Carla boom ves las duplo? che bene oh no era il come si chiama? nelle patatine le nelle patatine le la vuolta canzone no te la tienes che reventar ostras questo si chiama entrare nel petto rado letteralmente auto pescarsi accetta la mia ricetta di amicizia e lo presionano e lo presionano hasta aplastarlo e così buuuu Carla sono luna i think yes but we don't wanna play with you sorry sorry sol Frank said you are not welcome here I don't know Frank no not I not me not me not me not me I'm just an angel ok so for sure for sure we will play we wanna we will play we will we will we will I don't yes but I'm this this less no it's not true I'm hungry I'm hungry I'm hungry no you're happy right now I'm so happy and I'm hungry I could eat the table I can't eat you and I eat potatoes potatoes yeah we have guys in Minecraft we have a potato a big potato smiling oh oh let's see oh carl carl I can't tell if you are joking or not. Is it so? That's the mystery of it. The mystery of the live stream. Are joking the doctor? Are doctor joking? Is the doctor joking? You're one person, you're not two. I'm two persons in one body. Are doctor joking? I have two personalities. I need the two body, no only one. Please, help me. I have talked to one person. Frenca, I'll cut you the chest, I swear. Let's get it. I have to close before the forecast. Okay, and we won't stop you, young people out of class. Let's get it. Frenca, I'll crush on Minecraft, crush on Splatoon, crush on... I don't know, let's try to play on Tetris. Let's see if you can crush on Tetris. Frenca. Me he perdido todo. Yo me he perdido el partido porque tengo demasiada hambre. Ahora mismo. Boom. I say potato, you say potato. I say tomato, you say tomato. Muy grande, Kuma. Ese es un video educativo, es un video educativo muy bueno. De verdad lo digo, ¿eh? Te hace entender los dos dialectos. Madre mía. I say, you say... ¿Cuántas veces te notas lo tocas? Carl, tú dirás, ¿las has contado? Carl... ¿Se le va a Saleta? ¿Se le va a Saleta? Sí, se le ha andato. Oh, Saleta, aspeto que me sente ancora. Aspeto que me sente ancora. Buonanotte. Yo, a 12 años, ¿lo quieres entender? Testa de bomba. ¿Qué dices, Beto? No, 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 no. El dog has two bodies, fain. He was joking, by the way. Danilo, Danilo. You need to furnish your house. Mateo. Eh, soy Mateo. E lo haricomba y de combo yo. Eh, soy Mateo, soy Mateo, soy Mateo. Soy Mateo. E lo haricombo. ¿Cuál era lo...? ¿Qué me piaceva a mí? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cuál hacía... Ah, el blaster ese. Espera, no, voy a echarlo así. ¿Qué me piace? 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 Sì, no? ¿Qué me piace? Non lo so, eh. Penso que sí. ¿E' questo, no? Buó. Che fa delle palle enormi. ¿Qué me piace? Le grandi palle del blaster. Quasi 13. A maggio, faccio 13 anni. Ciao, Danilo. Number... Finchè c'è Danilo c'è Speranza. Uh... 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 Alla fine, Frank. Frank e Black. E non sei neanche esportatore. Ti sei messa per stessa arredo. Frank e Black. Frank e Black. Black e Black. Black e Black. Wow, e lo trochi un po'... También. Ti fa cacare tutto quello che ti hai messo a mangiare. Lancia... Sì. Il lanciapatate. Brrm. 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 Un carabiniera ci ha fatto una lezione per capire il loro lavoro. Che non cambia... E mi ha detto che se commettono reati a 14 anni, fino a 18, in goncia di minorite. Eh... Ma i ligoti non commettono reati. Quindi non è un problema nostro, ragazzi. Bu, 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 bu... Carl e Victor. I primi due si sacrificano per questa giusta causa. Ho fame, vado a mangiare un piatto di reaction. A dopo. A dopo, fascia. Tu cei tardi? Noi ce n'iamo tardi. Ancora non abbiamo cenato. Non abbiamo ancora acceso l'acqua per la pasta. Quindi per questa regola... Ceni presto. Oh, ma possiamo mangiare. In realtà... Non me ne sono andata. Ma ho spenduto solo la Switch. Hai visto? Quindi mi hai sentito salutarti. Sono felice. Doc, io vado via! Vado via! E vattene! Ciao bello. Ci sentiamo quando canteranno... Jaideen! Ma lo vedo Jaideen! Ma perché no? Eh? Jaideen si deve mettere a posto con se stesso. Perché? Perché lo vedo Jaideen. Dove? C'è la Jaideen... Dove l'hai visto però? Sei collegata? Ah... Ma c'era il secondo canto? C'era Jaideen 2... E invece qua c'era scritto Jaideen. Boh, non lo so. Anche noi... Anche noi, Danilo... Non ci fermiamo neanche... Cioè mangiamo in live... La sera. Questa è la regola. La prima live la facciamo mangiando. E la seconda è invece dormendo. No. Quando canteranno. Quando canteranno le patatine! Non me lo creo. Black! Poveri genitori... Cosa devono vivere? I bambini attaccati il cellulare vedendo una... Oh no! E i figli vedendo una live lì? Ma è meglio forse alcune live che la televisione. E questo per certo. Questo sono sicura che... È più true. True! True! È talmente tanto true ragazzi... Che adesso andiamo a mangiare. E sentirete i nostri... Mentre mangiamo. È tutta colpa del Doc. Questi ragazzi sono... Sono ritardati per colpa del Doc. Vuoi dare una scusa al tuo ritardo? Unisciti al nostro gruppo! Il Doc... Prende colpe a pagamento! Gratis! Tra virgolette! Punta e virgola! Oh oh oh! Oh mio Dio! Sembra una donna! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Let's get it! Grande! Grande! È una live che è una TV. Ce la sta confermando. Vabbè Doc! Quando non ci sono programmi! Non adatti ai minori! Di 18 anni! Guardiamo le tue live! Poi quando iniziano i programmi! Vietati ai minori! Le tue live non le guardiamo! Perché guardiamo quei programmi! In televisione! Quindi grazie a televisione! Per far diventare bambini ciechi! Sarg lo hai visto! Lo che passa è che non lo hai abierto! Però io sei dello che è! Grazie! Doc makes animal noises! Me! Doc! Are you okay? Dad! Why are you listening to animal sounds? Oh mio Dio! You know! Right in that moment! I was saying like! Because some Italian people was telling us like! I don't even turn off the live stream while I'm having dinner! And I was like! Oh mio Dio! Poor parents! They must see their sons and daughters watching into a scream with a strange person talking! So yeah! And now you say this! Great! Io ho 20 anni! Chi è che ho 20 anni? Danilo! Danilo! Perché devi... Io mi sembrava a me! Diverto! Perché devi dirmi stronzate Danilo! Cosa c'è già scritto? Scemo sulla fronte! Doc a causa tua rompo le scate di una amica mia cantando sempre... E quindi quindi quindi... E quando quando quando? Oppure canto! Una nuova auto che fa... Che fa guz 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 guz... Magari già dite questo jazz già l'ha detto ma vi ripeto che noi lo cantiamo... Anche quando siamo in casa ci viene da cantare queste cose hai capito? Al capezzolo! Che scemo sei! Al capezzolo! Sì è buono che stanno mangiando questa gente dai! Oh shh non mangiate capezzoli! Bravo! E' impossibile che entra... Ho una fame! Ho una grossa fame! Che fa guz 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 guz! Finché a 25 e a 26! Non sputo! Puu! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Bubu! Bubu! You're here in Splatoon! Carl! Dove sei Carl? Dovete scrivere questa esaretta! Cos'è che si dedica a questo per favore? Al lavoro qual è il tuo? E' guz 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 guz! E quindi 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 quando 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 mi accettate? Reaction! Carl io se come ti senti, non ti preoccupi! Credemi! Io guarda l'altro giorno, l'altro giorno ero per strada, guardo la tipa e gli dico patatine! E questo mi ha guardato e mi ha detto che cazzo stai facendo? Io ho detto spero dentro di me che non sia italiana! No, io ogni tanto, ogni tanto spero che nessuno mi senta che mi sta guardando e non lo so! Hai capito? Per quello devo tenere il dottore solo dentro casa! E' brutto eh! Perché sei fuori e vuoi gridare guz 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 al mondo! Eh! Perché sono cose che capiamo solo noi! Sì, Carl, noi non è che vabbiamo a stare eternamente ora già! Mole, ma tu mi ami vero? Certo che ti amo, Franca! E perché sempre funziona! Claro! E come Loli! Lola! Cada dia io ti chiedo ma! Oh mio Dio! Che cosa schifosa! Che cosa schifosa che ho letto in questa chat! Se c'è un moderatore, la cancelli, la bruci il monitor! Vorrei che il mio monitor bruciasse! In questo momento! Non l'ha messo cuoricino, è falsa! È falsa, è falsa! Ho capito già! E' bellissimo questa psicologia chatiense! Mamma mia! Quanti cosa schifosa? Dove vanno? Sari, buonasera! Io scusavo musica vasca, Sark! Sì, ho detto alcune cose in vasco per canzioni, ma è tutto come, non ha molto senzio, né connexione, perché non sapevo lo che sto dicendo. Quindi, fino a presto, Sark. Sarkino, buona notte, e Karl, buona notte. Ah, anche. Mi devo desconectare, ah, ok, mi devo andare. Ok, ok, fino a presto, Karl. Molte grazie, e ti devolviamo il abbraccio. Ciao, però scrivi il ciao bene, Karl, ti insegno. Non sei come tutto, così, toma. Toma la poltrona. Sei rimasta traumatizzata, eh. Guarda cosa hai detto. Ma dai. Ma capisco se lo dice lo youtuber, ma se lo dice uno così, dai. Quanti follower ha questo ragazzo? Cioè, le patatine, cercano la notorietà. Se no, non starebbero nelle buste tutte insieme. Notorietà, patatine. Notorietà. Cioè, ragazzi, cosa li fate? Se no, non �... Se no, non mi pare. Ma ne va, non lo vado. Caro, Karl. Se no, non so. O Saretta, ma, te ne vai veramente? O... solo così? O sono... Momento tragico. Sareta se ne va? Cosa diceva Danilo? Non l'ho visto. Cosa diceva Danilo alla patatena? Io non me ne vado. Ah, lui dice ciao. E scrivi ciao Carl così fa più illusione. Sa che? Sa che? Sa che di Losa? Illusione non esiste in italiano. Sto dicendo una stronzata. Illusione ma è un'altra cosa. Rimango. Madre santa. Io non vado, rimango. Io gioco Minecraft quando stasera dormo. Penso che se dormiresti non saresti stato il numero 600. Sì, se avresti dormito stato facendo non essi stato il numero 600. Niente. Dobbiamo farlo in rima. Questi sono persone giovane. Tu sei vecchia e non ti conformi con i giovani. Vai, facciamo un bordello dai. Tiriamo su e la mira. La fessa di Frank. E con la hands up. E con la hands up. Che grossa la mia anima. 5.000 kg di denticchie. Cosa vuoi fare? No, quante partite facciamo? Partite? Adesso facciamo i saluti, mandiamo i baci. Mando i baci alle mie fans. Che mica sono... Eh, ma io mando i baci ai tuoi fans. Non ai miei. No, tu ti do la testata in bocca e ti spacco i denti davanti. Che ridi? Mi sono detto ridere perché... Che cazzo le dite? Qua le sue ipotesi. Ma cosa? Ma come? Ma come cazzo? Porti i capelli? Belli perché la porta come me. Ma come cazzo li porti? Ok, ragazzi, quindi abbiamo detto già una cosa. Ragazzi, abbiamo detto una cosa e noi la parola non ce la mangiamo. 1, 2, 3, 4, 5 la stream, guarda. Bellissimo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Detto questo... Io sono fan di Jesse. Mio mago. O pensavo che volevi cancellare il messaggio. Vedevo farti un movimento strano. Quindi? Che fai? Cosa? Akuma matata. Akuma? Me gusta tu slogan. Me gusta. Oggi... Ma che? Me ho cancellato! Mako, fai te! No, non ho detto niente. È uno stronzo sto doc. Io non ho detto niente. Sto doc. Non lo so. Erdi Mako, no. Mako, rimandalo, per favore. Io lo ricancello. Anzi, non mi intentavo ancora. No, io semplicemente metto a leggere il messaggio, quindi è come se fosse lì. Non c'è più. Adesso lo cancello anche da te. No, non puoi. Che povero! Ma fai l'ultima. Ma se c'ha le galline, le pecore, tutte queste cose, non è tanto povero. Ragazzi, non vi fate abbindolare. Ma che cosa è? Oh mio Dio! Una pietra di asfalto nei denti. Oh, ma... Legends. Eh, Jessie, sai perché non si può litigare con il precedente? Perché è pacifico. Io non la conosceva. Ovviamente no. Ma cosa? Mago, no, no, no. Lascia, lascia la guerra persa, mi sa. Guarda, sta continuando. Ma oggi sono razzista. Oggi da Napoli in giù, gli odio, eh. Se scrive una cosa brutta, li cancello, eh. L'unico che può scrivere è Frank, l'ultima. Sassi, sei sotto o sopra di Frank, tu? Oh mio Dio, Marco sfida, Doc. Docchini! Ma Marco! Ma tu sei italiano! Quello, tu no. Non ti puoi rendere così. Io sono di Torino, Cerea, ne? Ma chi? Ho comprato la polenta. Ma chi è di Torino? Il nostro amico Legend. È di Torino? È di Torino. È di Torino. Gli diceva che eri così... Chiara, serio? Non so come dire. Si dice serio. Si, voleva dire proprio quello. No, non c'è. Non ci sono aggettivi per descrivere. È uno che è... Uh! A Legend gli puoi cantare Cavallini sulla mia maglietta. Perché è serio da Duck Polo Gang. Sero perché adoro i tuoi disegni. Team G, sono perché adoro i tuoi disegni. E sei... Ma se... Non sono simpi. Faccio credere che sono simpi, Saretta. Questo è il trucco. Non l'avete capito ancora, ma lo capirete. Tranquillo. Eh no. È vero... È anche una cosa bella che io ho sempre pensato è... Quando... Ci metti tanto a capire le cose... È in realtà più bello. Dai scherzo. C'è un bug della chat, mi sa? È un bug. C'è un bug. Che ridere, ragazzi. Abbiamo un bug. Siete grandiosi. Dai. Ma non sono! Sei una pimpa. Sarezza, mamma mia. Pimpa, amica, c'ha... Sì. Non so se potrei essere la tua madre, però... C'è la conchiglia... Le conchiglie nella cellulite. Ma che? Che sconchiglie? La megas. Ma... Oddio! È un po' schifo, dice Legend, comunque. Capiletto. Che è sesso, Jaime? Che è sesso? Che? No, come... Sto iniziando a odiare queste armi secondarie speciali. Io ho troppa fame, sai, per vivere ancora. Dai, lasciami fare l'ultima guarda salone. Minchia pimpa! La Nina, la pimpa e la salta Maria! Salta Maria! E' sesso un'arma? E' sesso un'arma? Che ti voglio mattar! Che ti voglio mattar! Che ti voglio mattar! Sessi d'è matta! Che ti voglio mattar! Pimpa! Poi non teni a nombra di arma, eh? Basta, certo. Pensiamo che... Tantavia si metta un nombre... Ma che modalità è? È normale! Che è normale, eh? È normale! È normale, io non ho comprato il gioco con la malità normale! mi sa che non è quello sai mi sa che è tipo un bazookarpo qualcosa del genere adesso lo sapremo smettila si ti ho fatto male mi sa ma cioè mi hai fatto male ma che ti ho fatto male dimentica io tengo un nome allora ragazzi adesso facciamo che schifo facciamo un giro e saluti come le nonde hai qualcosa di vaffanculo qua siamo tutti pimpi simpili allora come sempre questo è stato per me è stato un bello stream perciò vado a fare due foto con i partecipanti di questo stream si vittorino stiamo serrando si vamo a com'eri e poi siamo con minecraft allora qua abbiamo il bufu di frank molto simpili che tante la pimpò giù intendo quando non scriveva aspetta vediamo se riesco a farlo ma porca puttela una volta sola mi è venuto come hai frank io ho cercato nessuno l'ha fatto l'hai capito per quello dico come fanno hanno fatto a chiudere se non sapevano l'esistenza da nessun video non ci va più lì capi ma perché loro controllano i giochi dai io sono troppo cool e allora fan cool fan cool sai cosa vuol dire ventilatore cool cioè serio si hai capito è un buon ventilatore no che fa freddo no cool non freddo cool com'è la cosa è cool hai capito vai il giro dai aspetta voglio entrare in questo bug te lo giuro dovevi vedere come faceva è qui era tipo qui qui no oh ragazzi ve lo giuro un giorno ve lo faccio vedere se non l'hanno chiuso non si mette neanche più dietro hai visto adesso ti ricordi che si metteva dietro a cavalcione tra virgolette e noi dovrebbero essere due forse perché Frank ha le cuffie era qua no non si gira bene come Frank io guardo dall'altra parte così perché non voglio comparire in questa foto mi ha encantato chicos grazie per stare detrati della pantallita grazie a ti Joy e Victor come sempre sorridi vai Victor presa te cofimo il Victor oh mio dio questo è il calamacco questo chi è è buu buu bufu ma chi no più più bel pentinato di tutto ma no ma non c'è guarda non c'è sta pettinatura guarda bellissimo ridi bitch e quelli gli occhiali sono profondi ma guarda così è la bitch guarda Marco bellissimo ridi ora adesso no ma perché ridi dal basso ai non so è la perspettiva vabbè fammi fare una foto a bubu madre madre vedi tutto la piazza bellissimo oh lei ride aspettami ridi smile bibi vai rubu right now no eh no Giselle te non ci sei mi sa black io di black star 21 che cool wow è troppo cool no no col mirino di merda super cool aspetta guarda così mi piace così guarda così boop bellissimo ah perfetto ragazzi quindi 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 il nostro il nostro stream finisce qui un ringraziamento speciale va a top scrivete ora o mai più Calamaco Frank Saretta Jaime Legend Live Victorin grazie 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 ragazzi è stata un'ora e mezza bellissima come sempre e adesso come dire mangiamo e costruiamo andiamo a costruire prossimamente prossimamente si tol si tolge